E' bastato poco tempo per far sparire dalle carte di credito rubate, 1000 euro. La vittima è un cliente di una palestra di Padova che ha ritrovato l'armadietto sfondato e sparita la sacca che oltre a pochi contanti custodiva nel portafoglio due carte di credito che al contrario sono state usate dal malvivente fino a che il titolare non le ha bloccate.